Il pentagono è un'associazione che intende portare avanti sia attività culturale che ludica. In questa occasione è il fine e il divertimento e purtroppo siamo stati un po' sfortunati perché la pioggia ha bloccato un po' la nostra iniziativa. Speriamo che il tempo sia più clemente e che tutto possa andare nei migliori dei modi. Il pentagono è attivo sia in ambito culturale che a livello comunale. Quali manifestazioni ha fatto fino ad oggi? Il pentagono ha fatto due bellissime manifestazioni, in modo particolare quelle del 2 giugno che ha coinvolto anche la scuola media di Fisciano e quella di Langusa. Il prossimo anno si propone anche di coinvolgere le scuole elementari. E poi è stata anche molto bella la festa del tesseramento, quella del 25 aprile, che ha visto la partecipazione di molti giovani, con anche le autorità presenti sul territorio. Come nasce la festa della pizza? La festa della pizza nasce dal fatto di integrare questa associazione alla popolazione di Penta per dare valore a tutta la valle dell'Irno e soprattutto alle pizzerie della valle dell'Irno, che qui sono rappresentate in piccola quantità. Per valorizzare i prodotti tipici della nostra zona, come la mozzarella, il pomodoro, che è molto... e quindi abbiamo pensato di fare questa festa. Quali sono le prossime attività che farà l'associazione? Ad agosto, a partire dal 20 agosto, per quattro giorni, saremo impegnati con la festa della Sassiccia, che quest'anno compie dieci anni. Perché noi abbiamo iniziato con questa manifestazione e speriamo di continuare con questa manifestazione. I giardini lo permettono, la gente viene ed è contenta di stare qua. E il tempo, speriamo, che per l'epoca sia clemente. Ci sono piatti tipici alla festa della Sassiccia? Sì, allora, prima di tutto, la Sassiccia è donata, è fatta dai nostri macellai. Abbiamo la Sassiccia e broccoli, la Sassiccia rostita, al momento e non alla mattina. E poi abbiamo la pasta, i caputi con la Sassiccia. Cioè, tutto quello che riguarda la Sassiccia, mangiamo. Buonasera, vedo che la pizza vi è piaciuta? È finita. Quale pizzeria avete scelto? Come si chiama? Questa, l'ultima qua. Come, se è la prima sera che venite o siete già venuti altre sere? La prima, la prima. E verrete anche l'anno prossimo? Sì, è corsa. Buonasera, vedo che la pizza le è piaciuta, ottima. Quale sento avete scelto? Il terzo, il terzo, il terzo da... Mi è piaciuta la manifestazione, come è svolta? Abbastanza, abbastanza organizzata. È la prima sera che venite? Sì, sì. Verrete anche l'anno prossimo? Sì, se ci sarà la possibilità, ci vediamo. Ok, grazie. E la pizza? Qual è la vostra pizza migliore? Allora, la nostra pizza è il facotto, che è il ripieno di ricotta, porcini e salame piccante. Sopra con specco, rucola e pomodorini. Da quanti anni siete attivi sul territorio? Non lo so, però sono parecchi anni, più di dieci anni. Partecipate da molto a questa manifestazione? No, è la prima volta, la prima edizione. Come siete trovati? Bene. Allora, in bocca al lupo per il proseguimento. Bene. Non è vero. Bene. No, non è vero. Sì, meno. Sì. Oh, va bene. Prego. non sei il rivello della mezza qual è la vostra pizza migliore? la nostra pizza migliore è zucchine e pancetta è la nostra specialità di questa sera come vi siete trovati a questa manifestazione? noi partecipiamo tutti gli anni a questa manifestazione non sei la vostra pizza migliore? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.